Ciao, sono appena di ritorno da un meetup a Dubendorf, qui vicino a Zurigo, e ho pensato di fare il mio update per giugno. Durante questo meetup abbiamo giocato solo un gioco in questo pomeriggio, ed è The Others di Eric Lang and Coming of Not. Un bel gioco, dipende anche poi sempre da con chi lo giochi, mi sono trovato bene, erano ragazzi simpatici, ma in particolare uno che voleva controllare la situazione, come voleva pianificare un pochino i turni del round un po' per tutti. Questo ha un po' rovinato il divertimento, ma soltanto in parte, era comunque un ragazzo simpatico e non ha esagerato. Il gioco consiste in, in questo caso, quattro giocatori che collaborano contro un cattivo che rappresenta uno dei sette peccati capitali e sulla tavola cercano di muoversi all'interno della città per distruggere i mostri che rappresentano appunto questo peccato capitale, altri collaboratori e raggiungere poi un evento finale in cui dovranno, in questo caso, in questo scenario, distruggere il mostro finale più altri tre. Il gioco è divertente, si basa anche un po' su dei lanci di dadi, quindi bisogna essere anche fortunati, ci sta questo concetto di dadi che esplodono, quindi se capita una faccia su sei, ti permette di, oltre ad ottenere un risultato positivo, ti permette di lanciare un dado in più, quindi c'hai sempre la possibilità, anche solo con un dado, di ottenere quel secondo dado, e poi terzo dado, quarto dado, con un po' con una dose di fortuna si riescono a creare delle situazioni molto divertenti, quello che può succedere anche in Arcadia Quest, per chi lo conosce. E quindi è stato un gioco molto divertente, è durato circa due ore, direi, due ore, e siamo riusciti a vincere proprio soltanto all'ultimo turno, è sempre un buon segno di un gioco, almeno del bilanciamento di un gioco quando questo succede, saremmo morti esattamente quel turno se non avessimo sconfitto il mostro finale, per così dire, grazie a un bonus che si può ottenere con la corruzione del proprio personaggio, che è uno dei concetti principali di questo gioco, siamo riusciti ad ottenere dei bonus, ovvero tu puoi corrompere il tuo personaggio anche volontariamente, anche i mostri possono corromperlo, però puoi corromperlo anche tu volontariamente per ottenere dei bonus. Più lo corrompi però, più c'è il rischio che poi prenderai dei danni, perché arrivato a un certo livello di corruzione, non sei più in grado di sopportare questo, diciamo, livello, e inizi a prendere dei danni ogni volta che sei corrotto. Il gioco per il resto è simile in altre meccaniche, invece ha giochi tipo Last Night of Earth o altri giochi in cui ti muovi sulla plancia cercando di distruggere gli altri mostri, ma appunto ha un paio di scenari che dovrebbero essere anche differenti dal distruggi tutti i mostri, e ha appunto qualche meccanica, tipo questa della corruzione, che rendono il gioco più particolare e che si distingue, insomma, da altri giochi del genere. Inoltre, essendo un gioco del culmino notte che è passato per Kickstarter a 2756 espansioni, io ho giocato soltanto col gioco di base e basta e avanza in realtà, però se siete passati per Kickstarter e avete tutte le espansioni, siete a posto per i prossimi 53 anni, credo. Bel gioco. E per il resto, invece, passando appunto per questo negozio dove giochiamo, si chiama Well Play, da Dubendorf, sta molto vicino alla stazione, per chi fosse da quelle parti, mi sono anche procurato un paio di Double D6, che sono questi dadi, ma fammi riprendere, va. Dove devono essere messi già a posto, dove l'ho messi? Ah, bella domanda, dove l'ho messi? Sono dei dadi, mi dispiace non farveli vedere perché, ah, le ho portate lì, ecco qui. Fammi ritornare un attimo a posto. Per, ecco, far vedere i giochi dietro e meno, piuttosto che il disordine del resto della stanza. Questi sono i dadi Double D6. Sono dei dadi che vanno da 1 a 6, ma in realtà hanno 12 facce, e quindi due facce hanno lo stesso numero. È un normalissimo dado da 12 con due facce ripetute, però si rotolano bene rispetto a un D6, e sono carini perché ti danno il risultato comunque da 1 a 6, non devi fare la divisione, oddio, mi è venuto il 7, adesso il 7 vuol dire... No, semplicemente 1 a 6, due volte ripetuti sulle facce. Sono carini, costavano poco, l'ho presi. Niente, per il resto, questo mese ho giocato molto giochi... ho avuto poco tempo, quindi ho giocato molto giochi solitari, se no, giochi sulle app. Sono appassionato di Onirim per Android, è un gioco solitario, si può giocare in un gioco di carte, ce l'ho anche qui dietro, lo vedete, lì, 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 ed è bellissimo anche come gioco di carte da giocare, però adesso l'app, ogni volta che sono sul tram, lì spendo i miei 5-10 minuti, dura poco, ma la partita è uscita pure un'espansione gratuitamente sull'app, quindi sono sempre a giocare anche con l'espansione. Per il resto, appunto, ho girato qualche video che uscirà anche nelle prossime settimane, in cui gioco o con mia moglie o anche da solo delle partite qui a casa. Non sono riuscito a fare recensioni, ma, insomma, io cerco di mettere un po' di contenuti ogni settimana corrispondentemente anche al tempo libero che mi ritrovo, insomma, è molto variabile. Non sono per niente un professionista, ma spero di poter condividere con voi, insomma, questi contenuti e in questo caso, questo aggiornamento. Non credo di avere altro da aggiungere, ma se mi viene in mente ve lo dirò il prossimo aggiornamento, a luglio. Ciao! 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 Ciao!